Salve amici, vi voglio parlare di quanto è stato detto l'anno scorso da me in merito a una questione che ha trovato interesse in molti di coloro che mi hanno ascoltato. Marzo 2019, a seguito di stimoli ricevuti da una serie di ascoltatori che si approcciavano a commentare e comunque ad ascoltare i miei contenuti circa gli abusi e le violazioni dei diritti umani messi in atto dalle politiche di gestione della società Torre di Guardia e molti ascoltatori giustamente si chiedevano e chiedevano se fosse possibile un'azione collettiva nei confronti di questo culto abusante. E così, essendo io una persona pratica, ovviamente, che tende ad andare oltre le chiacchiere, le parole, le belle parole, giustamente mi misi alla ricerca per capire se nel nostro ordinamento giuridico, nel nostro codice penale, civile, da qualche parte vi fosse ovviamente uno strumento che poteva dare questo potere al cittadino e rivalersi su questi enti religiosi, su queste associazioni religiose che hanno per anni imbrogliato tanta gente, frodato tanta gente attraverso mille promesse false. E per cui venne alla ribalta questa class action, questo provvedimento giuridico questo provvedimento giuridico che è utilizzato in alcune parti del mondo già da altri ex fuoriusciti, ex testimoni di Geova che appunto hanno chiesto praticamente risarcimento danni all'associazione di appartenenza. Ma guarda caso, l'anno scorso, ad aprile, quindi un mese dopo che penso a questa cosa, a questo progetto, insomma, a marzo scopro che la class action era in fase di aggiornamento, praticamente il governo la stava ristrutturando e la rendeva, stava cercando di renderla più fruibile ai cittadini perché la class action in Italia esiste già da anni, insomma, ma non ha avuto la sua efficacia per cui è stata revisionata questa legge, questo articolo di legge ed era stata votata già precedentemente in Parlamento e ad aprile è stata votata anche al Senato per cui ad aprile 2019, proprio un mese dopo che ho cominciato a guardare in quella direzione, questa proposta di legge passa finalmente aprile 2019, ovviamente però nell'ordinamento giuridico italiano a momenti in cui una legge passa devono poi passare altri 12 mesi affinché venga assimilata dall'ordinamento e divenga fruibile, no? E praticabile, per cui sarebbe diventata praticabile ad aprile 2020, ovviamente, no? Facile, 12 mesi, aprile 2020 per cui da quel momento, da metà aprile 2019 di questa class action non ne abbiamo più potuto parlare considerato che tanto non era praticabile nella maniera più assoluta se non per aprile 2020 per cui abbiamo pensato ho pensato insieme ad altri collaboratori e sostenitori pensammo ad un'altra azione in quella fase cioè tipo una campagna di informazione e di comunicazione con le istituzioni ma ve ne parlerò nel prossimo video intanto, cosa è successo a questa class action? come vedete, 24 dicembre 2019 sul sole 24 ore sul sole 24 ore 24 dicembre 2019 viene, viene, si viene, viene detto viene annunciato che manca il portale telematico e la class action slitta a ottobre 2020 cioè la burocrazia italiana la burocrazia e già questa è la burocrazia in Italia ovviamente e dunque dunque come dice quindi questo articolo la class action destinata a rivoluzionare le azioni collettive deve attendere sei mesi in più nel decreto mille proroghe l'entrata in vigore della class action liberata dal codice del consumo codice del consumo perché prima era era solo e specificamente utilizzabile per questioni che riguardavano i consumatori dove aveva latitato per sette anni praticamente senza trovare applicazioni slitta ottobre 2020 rispetto alla data prevista inizialmente di metà aprile e questo è già una notizia di dicembre 2019 come avete potuto notare d'ogni modo nella descrizione di questo video vi metterò un link dove ciascuno di voi se è interessato a questo provvedimento legge che ancora deve entrare in vigore ancora deve entrare in vigore è stato rimandato vi spiegherà praticamente chi può accedere chi può accedere a questo provvedimento giuridico chi cioè è praticabile per qualunque cittadino è praticabile per richiedere i danni a enti religiosi ecco perché questo è un aspetto importante vi invito ad aprire la descrizione e aprire i due link uno riguarderà questo questo che vi sto mostrando e l'altro riguarderà gli approfondimenti ad ogni modo a questa azione di classe a questa azione di classe avrete modo di vedere che non vi può accedere qualunque cittadino e sì perché poi dopo dopo che questo provvedimento è uscito mano a mano mano a mano ci hanno fatto capire praticamente nel dettaglio nel dettaglio chi può accedere chi può usufruire di questo provvedimento giuridico quindi vedrete che questa azione di classe questa class action non vi può accedere qualunque cittadino ma solo un preciso elenco di associazioni organizzazioni di cittadini a difesa di condotte illecite avvenute dopo la data di entrata in vigore questo lo scopriamo lo abbiamo scoperto ben dopo cioè praticamente non si possono fare denunce denunciare illeciti avvenuti prima della data di entrata in vigore di questa legge e questo è già un fatto importante quindi la data cioè le denunce devono riguardare cose accadute dopo l'entrata in vigore di questa legge che come vedete per il momento è slittata a ottobre 2020 tra l'altro ho il sospetto che questi slittamenti banali abbiano l'intenzione di proteggere chissà quale organizzazione commerciale o simili c'è qualcuno di grosso insomma che fa qualcuno secondo me sta facendo ostruzionismo e fa in modo che questa l'entrata in vigore di questa legge venga rimandata ho la sensazione che neppure a ottobre 2020 sarà praticabile tra l'altro comunque sembra che gli enti religiosi non sono contemplati in questo provvedimento di legge comunque troverete in descrizione i link che vi danno la possibilità a ciascuno di voi di approfondire con i vostri occhi con i vostri occhi affinché possiate smetterla di credere alle cose che qualchiunque di noi può farneticare e dire e blaterare ma che non corrispondono alla realtà nel prossimo video vi parlerò invece cosa è stato fatto l'anno scorso 2019 tra aprile e aprile aprile e maggio che non ha nulla a che vedere con la class action perché la class action come vedete è tutt'altro un saluto un abbraccio